Ciao, sono Luca Manelli e in questo breve video voglio farti vedere come ho risolto una situazione che mi è capitata qualche giorno fa, dove abbiamo la necessità di far vedere una rotazione a 180 gradi per entrare in bagno, oppure in questo caso per proseguire verso la zona giorno, di una persona su una sedia a rotelle. Per poter fare questa rappresentazione grafica non ho fatto altro che andare all'interno della libreria di Archicad e andare a utilizzare l'oggetto simbolo uomo in sedia a rotelle. Questa tipologia di oggetto, ora te lo faccio vedere dove si trova, si trova appunto all'interno della libreria di Archicad, dentro la cartella sagome umane, ha la possibilità, per quanto riguarda l'aspetto grafico bidimensionale, di scegliere una serie di tipologie di rappresentazione. Nel mio caso mi serve appunto uno spazio a T per una curva a 180 gradi, proprio per fare in modo di indicare il tipo di manovra che può essere fatta. Tra le manovre che hai a disposizione, all'interno del menu nella voce spazio minimo, hai la possibilità di avere l'ingombro libero minimo, un approccio frontale, approccio parallelo e poi hai una serie di varie tipologie di rappresentazione, anche la larghezza minima libera per il passaggio di due sedie a rotelle, oppure la possibilità di effettuare lo spazio di rotazione a 360 gradi della sedia a rotelle. Ecco, questo è un interessante oggetto nel caso in cui hai la necessità, come mi è capitato a me, di andare a identificare in pianta questa tipologia di manovra. Attenzione che la voce spazio minimo significa che hai la possibilità di visualizzare sempre questo tipo di rappresentazione, allora potrai sempre visualizzarla legata all'oggetto, oppure potrai legare questo tipo di rappresentazione con una opzione vista modello. Allora in questo caso che cosa succede? Succede che questo tipo di rappresentazione dello spazio minimo verrà resa visibile quando andrai a impostare un'opzione vista modello. Ho parlato di questo tipo di gestione all'interno di un articolo che puoi trovare sul blog e che ti lascio come link all'interno della descrizione del video.